Ciao a tutti e bentornati sul canale numero 1 dedicato alla cultura finanziaria. Con il video di oggi continuiamo la serie di video dedicate alle asset class, dove andremo ad analizzare i pro e i contro e quale contributo danno al nostro portafoglio, perché ricordatevi che il portafoglio è più dell'insieme dei suoi componenti, quindi se sei interessato rimani fino alla fine e mi raccomando iscriviti al canale. Nel video di oggi parliamo di obbligazioni. Le obbligazioni sono un modo che hanno i paesi e le società per finanziarsi, infatti quando io compro un'obbligazione sto materialmente prestando i miei soldi all'emittente, quindi sto comprando una parte del suo debito. Quando questo prestito andrà a scadenza otterrò indietro i miei soldi più gli interessi. Anche per questo video come per quello delle azioni, quando mi riferirò alle obbligazioni intenderò l'intera asset class e non le singole obbligazioni, che per quanto mi riguarda hanno un altro scopo, ne parlavo in un video che trovate sul canale. Quindi le obbligazioni nel portafoglio hanno come compito principale quello della diversificazione. Quindi prima di arrivare al perché di questa mia affermazione, vediamo un po' da che cosa deriva il rendimento. Una componente è strettamente legata al rating e qui facciamo un semplice esempio. Supponiamo che voi avete due amici che vi chiedono la stessa somma di denaro. Il primo è super affidabile, mentre il secondo ha le mani bucate. Quindi il primo avrà un rating alto, il secondo avrà un rating basso. Quindi voi, per assumervi il rischio che il vostro amico dalle mani bucate non sia in grado di restituirvi i vostri soldi, pretenderete un interesse più elevato. Quindi prestare soldi a chi ha un rating basso rende di più, ma è più rischioso. Questo vale anche per le società e per i paesi. Un'altra componente del rendimento è legata alla duration e ai tassi di interesse. Partiamo dalla duration, che dalla parola può sembrare simile alla durata, ma non è esattamente la stessa cosa. Mi perdoneranno gli accademici, ma possiamo dire che la duration è strettamente collegata al tempo che io impiego a riavere indietro i miei soldi. Facciamo un esempio. Supponiamo che due obbligazioni hanno la mesesima scadenza, due anni. Una distribuisce cedole e l'altra no. Ecco, l'obbligazione che non distribuisce cedole avrà una duration esattamente uguale alla sua scadenza, poiché io riavrò indietro il denaro prestato alla scadenza dei due anni. Mentre l'obbligazione che distribuisce cedole avrà una duration inferiore alla sua scadenza, poiché nel frattempo mi avrà restituito parte dei soldi che mi spettano. La duration, poi, è anche la sensibilità alla variazione dei tassi di interesse. Veniamo al secondo punto. I tassi di interesse, infatti, determinano il costo del denaro. Se la banca centrale alza i tassi di interesse, il costo del denaro aumenterà. Noi tutti comprendiamo il meccanismo dei mutui, quindi, se io devo prendere in prestito del denaro e ci sono tassi di interesse elevati, lo pagherò di più. Mentre se ci sono tassi di interesse bassi, il denaro mi costerà meno. Il vantaggio del mutuo, però, è che se le condizioni migliorano, posso variare il tasso di interesse tramite la surroga e posso farlo gratuitamente. Mentre per le obbligazioni, il discorso è esattamente il contrario. Siamo noi la banca che presta i soldi. Quindi, se i tassi di interesse salgono, il prezzo delle obbligazioni scende e viceversa. Avevo fatto un video dedicato, lo trovate sul canale. Ma facciamo un esempio. Immaginate di aver prestato i soldi al governo italiano acquistando un BTP che rendeva il 2%. Dopo qualche anno, per lo stesso debito, il governo italiano offre un rendimento maggiore, magari del 4%. Quindi, voi volete vendere la vostra vecchia obbligazione per acquistare quella nuova, poiché ha un rendimento migliore. In questo caso, la vostra vecchia obbligazione dovrete svenderla, perché non ci sarà nessuno disposto a comprarla allo stesso prezzo a cui l'avevate pagata voi. Perché sul mercato, attualmente, ci sono condizioni migliorative. E purtroppo, nel mondo obbligazionario non esiste la surroga. Quindi, maggiore è la duration dell'obbligazione, maggiore sarà la sensibilità alla variazione dei tassi di interesse. A video potete vedere una tabella riepilogativa che vi mostra quanto varia il prezzo di un'obbligazione al variare dei tassi di interesse. Quindi, se per le azioni il rendimento è strettamente collegato agli utili e quindi alla società stessa, non possiamo dire la stessa cosa per le obbligazioni. Come abbiamo visto, il rendimento non dipende solo da fattori legati all'emittente, ma anche da fattori esterni. Chiuso il concetto di rendimento, avrete capito che il motivo principale per cui dobbiamo investire in obbligazioni non è la ricerca di rendimento, che può essere influenzato da fattori esterni all'emittente, ma la funzione principale è quella di diversificazione. Infatti, le obbligazioni, essendo poco correlate alle azioni, sono un ingrediente fondamentale da avere nei nostri portafogli. Vi consiglio di andare via a recuperare un video che trovate sul canale, dove spiego la differenza tra investire in singole obbligazioni o in ETF obbligazionali. Dopo questa introduzione, analizziamo quali sono i pro e i contro di avere obbligazioni in portafoglio, quali sono gli scenari favorevoli e quali sfavorevoli, e poi analizziamo le statistiche di un portafoglio 100% azionario. Cominciamo dai pro. Avere obbligazioni in portafoglio ci assicura contro le recessioni. Infatti, durante una recessione o una crisi economica, le banche centrali tendono ad abbassare il costo del denaro, questo per favorire le azioni, che nel frattempo saranno scese. Come vi ho detto nel video precedente, denaro a basso costo favorisce e stimola la crescita e la ripresa economica. Infatti, noi investiamo nella crescita economica mondiale, ma quest'ultimo, intanto, ha bisogno di un aiutino. Quindi, tassi in diminuzione fanno aumentare il prezzo delle obbligazioni, come visto in precedenza. Questo ci permette di ridurre l'impatto dei ribassi del mercato azionario all'interno del nostro portafoglio. Inoltre, maggiore è la duration della nostra obbligazione e maggiore è l'apprezzamento che subirà quest'ultima durante la fase recessiva. A video potete vedere che cosa è successo ai vari ETF obbligazionari durante il periodo Covid. Siamo ai contro. Lo svantaggio è che inserendo obbligazioni in portafoglio avremo un rendimento atteso inferiore. Quindi, a fronte di una maggiore diversificazione e di una maggiore stabilità alle diverse condizioni economiche avremo un rendimento atteso inferiore. Purtroppo, non esistono passi di gratis in finanza. Se un portafoglio 100% azionario potrà avere un rendimento atteso del 7-8% annualizzato, un portafoglio composto dal 50% azioni e 50% obbligazioni avrà un rendimento atteso del 4-5% annualizzato. Quindi, lasceremo parte del rendimento per strada. Dopo aver visto i pro e i contro andiamo ad analizzare lo scenario migliore e lo scenario peggiore per le obbligazioni. A video potete vedere la solita immagine che vale per tutte le asset class. Partiamo dallo scenario migliore. Facciamo finta che quest'anno arrivi la recessione così tutti i guru con la sfera di cristallo che l'avevano previsto potranno dire di aver avuto ragione. Quindi, le famiglie non riescono a spendere per via dell'elevata inflazione. Questo si riversa sulle società che non vendendo prodotti, beni o servizi vedono diminuire i loro utili. L'economia rallenta, i listini azionari virano a ribasso e magari qualche società fallisce. A questo punto, le banche centrali intervengono tagliano il costo del denaro e stimolano le economie. Quindi, taglio dei tassi di interesse fa aumentare il prezzo delle obbligazioni. Maggiore la duration, maggiore è questo apprezzamento. Scenario peggiore. Le banche centrali con il loro intervento sono riuscite a fermare la recessione. Adesso, con il costo del denaro basso, le famiglie sono più portate a indebitarsi così da spendere ed aumentare i consumi. Come visto nel video precedente, a questo punto, se la domanda è forte, le aziende saranno portate ad aumentare il prezzo dei loro beni e servizi e questo può fare spingere l'inflazione a rialzo. A questo punto, la banca centrale deve intervenire nuovamente per non far scappare l'inflazione, aumentando i tassi di interesse e questo porta a una diminuzione del prezzo delle obbligazioni. Come per lo scorso video sulle azioni, anche in questo caso qualcuno di voi guardando questa immagine potrà pensare, bene, basterà eliminare le obbligazioni prima di un rialzo dei tassi di interesse e inserirle successivamente prima di un taglio dei tassi di interesse. Ecco, se perseguite questo obiettivo, non state investendo, ma state cercando il corpo fortunato. Il mio consiglio è sempre lo stesso. Secondo me, la cosa più intelligente da fare nel lungo periodo è quella di cercare di sbagliare il meno possibile. Quindi affidatevi un asset allocation e siatene fedeli nel corso del tempo. Sul canale trovate la playlist dei portafogli pigri da cui potete prendere spunto. Per finire, andiamo a vedere cosa significa possedere un portafoglio 100% azionario, vediamo le statistiche di rischio e rendimento, andiamo sul sito Portafoglio Chart. Bene, una volta sul sito, clicchiamo su Chart e andiamo a selezionare il grafico di nostro interesse. In questo caso, selezioniamo Annual Return, il primo. Quindi, arrivati a questo punto, dobbiamo andare a settare le impostazioni. Per prima cosa, selezioniamo dal Home Country l'Italia. Così avremo il dato dell'inflazione italiana. Quindi il risultato sarà il netto dell'inflazione italiana. Poi andiamo a eliminare l'impostazione di base, cioè il 60-40 e andremo a inserire 100 nella colonna IT che sta per intermedi, quindi bond intermedi e sviluppati. Quindi 100% di bond intermedi dei mercati sviluppati. e questo sarà il risultato. Quindi, per il periodo 1970-2023 avremo ottenuto un rendimento del 3,1, quindi al netto dell'inflazione, un rendimento reale, con una deviazione standard del 9,3%. Dopo aver visto le statistiche per quanto riguarda il rendimento, andiamo ad analizzare i rischi. Quindi cliccate nuovamente su Chart e selezionate Drawdown. A questo punto dovremo nuovamente andare a inserire i settaggi. Quindi selezioniamo sempre Italia nel campo del Home Country, così avremo il dato inflazionato italiano. Andiamo a eliminare nuovamente le impostazioni di base e inseriamo sempre 100% nella colonna bond intermedi. Mi raccomando, selezionate i mercati sviluppati, se no avverete solamente i mercati che non comprendono gli USA. Ecco, il risultato, sempre per il periodo 1970-2023, è un portafoglio che ha avuto un recovery period di 13 anni. Quindi vuol dire che per 13 anni vi è stata la possibilità di avere il segno meno davanti a questo portafoglio. Il tutto con un drawdown del 26% e un ulcer index dell'8,1%. In conclusione, le obbligazioni in portafoglio sono un'assicurazione contro i periodi recessivi. Il costo però è quello di sacrificare parte del rendimento. Quindi chi investe in obbligazioni solo perché rendono l'X% all'anno significa che non ha capito cosa vuol dire investire. Siamo arrivati alla fine del video. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella così non vi perderete i prossimi video sulle altre asset class. Un saluto, alla prossima!